Quali sono i cibi che ci servono e che sono utili per creare un ambiente sfavorevole ai tumori? Per cui quali cibi rendono difficile la proliferazione delle cellule? Lo vediamo subito. L'obiettivo comune dell'alimentazione corretta è quella di aumentare le difese immunitarie, ridurre i fattori di crescita e gli stimoli proliferativi per le cellule, ridurre l'infiammazione, ricordiamoci che le cellule mutate, malate, vivono negli ambienti acidi e infiammati, e anche ridurre l'angiogenesi. L'angiogenesi è un processo particolare caratterizzato dalla proliferazione di vasi sanguigni. Le masse tumorali per espandersi hanno bisogno di vasi sanguigni, capillari, che portino nutrimento e portino via i metaboliti tossici. Per cui se riusciamo a tagliare i ponti e ridurre il rifornimento attraverso i vasi sanguigni alle cellule tumorali siamo sicuramente più avvantaggiati. Cibi che servono per aumentare le difese immunitarie. Questi sono i più potenti, fungo shiitake, fungo maitake, l'orecchione famoso e le verdure giallo-verdi, perché sono ricche di carotenoidi che hanno un elevato potere antiossidante. Particolari e molto vantaggiosi sono i primi due funghi proiettati. Come si trovano? Si trovano nei negozi di alimentazione naturali e biologici, in genere secchi, e si utilizzano proprio come se fossero i nostri funghi tradizionali. Per cui invece di fare un risotto con i porcini o una polenta con i chiodini o con i finferli, possiamo fare le stesse preparazioni utilizzando questi due funghi. Cibi che riducono gli stimoli proliferativi. Questi sono i cibi che riducono gli stimoli proliferativi e quindi evitano che le cellule mutate proliferino in maniera incondizionata. Quali cibi ci servono? Crucifere, che sono le verdure proprio di adesso e sono cavoli, broccoli, cavolfiori, cavolo cappuccio, verza, cavolini di Bruxelles. Alliace, che sono invece aglio, cipolla, scalogno, cipollotto, porri. I lamponi, come i mirtilli, lo vedremo tra poco, la frutta va bene, deve essere frutta poco zuccherina. I frutti di bosco sono proprio i migliori in assoluto. Semi di lino, curcuma, cannella, cacao, lo vedremo meglio tra poco nel dettaglio, le spezie sono una meraviglia. Bisogna proprio imparare a utilizzarle quotidianamente, averle tutte in tavola. Servono per dare gusto, servono per limitare l'utilizzo del sale e dell'olio, ma soprattutto ognuna ha una proprietà antitumorale precisa e mirata. Rosmarino, per cui non solo le spezie, ma anche i nostri aromi ed erbe aromatiche. Menta, timo, origano, basilico, rosmarino. Sono tutti cibi vantaggiosi per ridurre gli stimoli proliferativi. Cibi che riducono l'infiammazione. Riso integrale, i ceregali vanno molto bene, soprattutto se sono in chicco, ma devono essere rigorosamente integrali. I cibi raffinati, per cui il riso brillato, il pane bianco, le farine di tipo 000, gli zuccheri semplici, non vanno bene. Ci servono i ceregali integrali. Ancora una volta gli ace, melograno, curcuma, zenzero. E questi invece sono i cibi che riducono l'angiogenesi, quindi la proliferazione dei vasi sanguigni che vanno a nutrire le masse tumorali. Ancora una volta frutti di bosco, soprattutto i lamponi, il tè verde, molto molto utile, la curcuma, lo zenzero e il cacao. Del cacao e cioccolato, ne parliamo tra poco, io adoro il cacao e il cioccolato, ora vi dirò quale bisogna scegliere. Oltre che essere buono, oltre che essere gratificante, ha delle proprietà antitumorali dimostrate. Ma bisogna scegliere ancora una volta il cacao e il cioccolato giusto. Qualche altro dato, sempre del WCRF, i vegetariani e i vegani, che seguono una dieta varia ed equilibrata, hanno ben il 40% in meno di probabilità rispetto ai cornivori di contrarre un tumore. Che ancora una volta è una percentuale veramente molto alta. Soprattutto perché, vi ricordo, la dieta non ce la impone nessuno dall'alto. Siamo noi che decidiamo cosa mettere giorno per giorno nel nostro piatto. Lo stile di vita alimentare sembra coinvolto nell'insorgenza del 50% di tutti i tumori femminili e nel 30% di quelli maschili. Chiaro, con l'alimentazione non si può fare tutto, sarebbe molto bello. Le patologie tumorali, come in genere tutte le patologie cronico-degenerative, sono multifattoriali. Per cui sono influenzate dallo stile di vita in generale, dall'alimentazione, dallo stress, dall'ambiente, dalla predisposizione genetica. Tanti sono i fattori che concorrono. Però noi, da questo punto di vista, davvero abbiamo il coltello dalla parte del manico. Perché possiamo decidere cosa mettere nel nostro piatto. I tumori, come le patologie cronico-degenerative in generale, vivono in ambienti acidi e infiammati. Gli ambienti acidi e infiammati facilitano la progressione di tutte le patologie. Qui non si vede molto bene, però ve lo descrivo velocemente. Ciò che è lo spartiacque è la normalità e quindi la neutralità è il valore 7 del pH. Il pH più basso va a indicare l'acidità, quello più alto invece l'alcalinità dell'organismo, come dell'ambiente, come delle urine, come degli alimenti. E qui invece, anche qua non si vede molto bene, ma ve lo descrivo io, ciò che si trova verso l'acidità è rappresentato dai cibi di origine animale. I cibi di origine animale spostano il pH dell'organismo verso l'acidità. Se ci spostiamo invece verso l'alcalinizzazione, parliamo solo di cibi di origine vegetale, soprattutto le verdure e la frutta. Ora lo vediamo meglio nella diapositiva successiva. Ecco qui, ora ci arriviamo. Quali le istruzioni alimentari più potenti per la prevenzione e la cura dei tumori e delle patologie cronico-degenerative? L'obiettivo dell'alimentazione è quello di ridurre i valori di insulina nel sangue, disinfiammare e alcalinizzare l'organismo. L'insulina è un ormone molto potente, viene prodotto dal pancreas con l'obiettivo di riportare la glicemia nella norma. Tutte le volte che consumiamo cibi ad alto indice glicemico, molto ricchi di zuccheri semplici, aumenta l'insulina da parte del pancreas per normalizzare la glicemia. Il problema è che l'insulina è un ormone anabolizzante, è un potente ormone che stimola la proliferazione delle cellule. Quali cellule? Di tutte le cellule, per cui spara proprio a zero, a ventaglio, sia le cellule sane sia quelle malate. Per cui nel caso in cui ci fossero già cellule malate, mutate, tumorali nell'organismo, è fondamentale cercare di tenere stabile nella norma il più possibile la glicemia e anche l'insulina. Questo per ridurre proprio gli stimoli proliferativi nei confronti delle cellule. Per tenere bassi i livelli di insulina, disinfiammare e alcalinizzare l'organismo, sono utili quattro accortezze. Prima, come dicevamo, normalizzare il peso corporeo. Questo è proprio fondamentale. Come? Riducendo l'introito calorico e o aumentando il dispendio attraverso attività sportiva, moderata, costante e regolare. Il sovrappeso, ormai è ben dimostrato, è uno dei fattori di rischio maggiori per l'insorgenza e la progressione di tumori e patologie cronico-degenerative. Secondo obiettivo, eliminare i cibi che fanno alzare rapidamente la glicemia. Questo perché stimolano il rilascio di insulina ad azione anabolizzante, promuovono l'infiammazione, gli zuccheri semplici facilitano l'infiammazione e acidificano l'organismo e favoriscono il diabete. Limitare l'assunzione di grassi saturi e colesterolo, che sono i mattoncini con i quali l'organismo va a produrre molecole pro-infiammatorie, e diminuire l'introito di proteine. Le proteine, soprattutto quelle di origine animale, acidificano l'organismo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS